Ciao a tutte ragazze, sono Anna e oggi insieme a voi vorrei affrontare un tema un po' particolare che è quello di correzione. Correzione di una forma dell'occhio naturale che è quella dell'occhio triste. Diciamo che è una forma abbastanza diffusa sulle nostre clienti ed è quella più difficile da correggere. Quindi in questi tre disegni che vi ho fatto, nel primo vi ho disegnato un occhio a mandorla e gli altri due invece sono gli occhi tristi. Vi farò vedere la stessa cosa come risulta appunto sull'occhio a mandorla, la stessa applicazione di lunghezze e come risulta invece appunto sull'occhio triste. Nel terzo caso invece vi farò vedere come deve essere corretto in modo giusto l'occhio triste. Eccoci qua, quindi potete vedere che cosa ho fatto in questo momento. Abbiamo fatto, nel primo caso ho utilizzato una lunghezza 13, ok? Lo andiamo a scrivere così, facciamo prima. 13 mm, ok? E sono partita dalla parte esterna utilizzando appunto la lunghezza 13. In questo caso dell'occhio triste ho fatto la stessa cosa. Se osservate questi due occhi vedete subito che questo occhietto qua comunque ha una bella forma, ok? Invece questo era triste, è diventato quasi ancora più triste per il fatto di avere questa queste ultime ciglia molto lunghe che appunto lo tirano ancora più giù, ok? In questo terzo caso invece ho utilizzato altri tipi di lunghezze di cui sono partita con i 10 mm poi ho messo la 11 e la 12 e se osservate bene ho tralasciato questa parte qua, ok, dell'ultimo angolino, che sarebbe stata quella che mi andava a chiudere l'occhio come in questo caso, ok? Quindi se osservate questi due occhi che sono uguali, sono tristi tutti e due, vedrete che questo è diventato ancora più triste. Questo invece siamo riusciti a tirarlo su, adesso ovviamente proseguendo con l'applicazione l'effetto sarebbe diverso ma in quanto lavoriamo su un foglio e non sulla persona non c'è modo di proseguire appunto per farvi vedere il lavoro completo, ma già così potete vedere che siamo riusciti a correggere questa forma dell'occhio. L'errore che viene commesso più spesso è questo, esattamente questo, quindi le ragazze cercando di correggere quest'occhio partono dalla lunghezza più lunga e poi magari scendano di lunghezza. Purtroppo questo non è il modo corretto, il modo corretto di correggere un occhio triste è questo. Adesso le lunghezze che ho utilizzato possono essere cambiate, quindi in questo caso è la 10, 11, 12. Generalmente troviamo le ciglia naturali molto corte e quindi posso partire anche dalla 8, 9, 10, arrivare alla 11 e poi scendere di nuovo. Ma in ogni caso il senso è proprio quello di partire dalla ciglia più corta qua in fondo e man mano andarsi ad alzare, aumentare la lunghezza verso questa zona qua che sarebbe quella del punto di altezza del sopracciglio. Bene, spero che vi sia stato utile questo video e vi aspetto con i prossimi aggiornamenti.